Camille, grande prestazione, 3-0, vetta solitaria della classifica per una notte. Sì, sì, abbiamo aspettato una partita durissima. Verona ha dimostrato una buona prestazione all'inizio del campionato, ma oggi abbiamo dimostrato che comunque noi siamo quella squadra fisicamente più forte che certamente loro. Sì, perché era una partita così, una squadra molto fisica come Verona contro noi e alla fine siamo stati più bravi in qualche elemento. Sei stato tra i più costanti, soprattutto il primo set, sei andato 15 volte ad attaccare, chiamato in causa spesso e volentieri da Giannelli. Volevo chiederti se sei soddisfatto della tua prestazione. Sì, sì, il primo set era importantissimo lì, secondo me, la partita era fatta lì. Sì, onestamente non mi ricordo la fine del primo set, però probabilmente abbiamo... Io invece mi ricordo una volta nel secondo set dove hai ricevuto e hai attaccato. Quante volte ti è successo dopo che sei diventato opposto? No, no, o ce l'hai o non ce l'hai. Oggi ce l'avevo. Senti, quanto era gusto vincere davanti a questo pubblico? Bellissimo, bellissimo. Giocare a casa con un pubblico così bellissimo, come ho sempre detto, è come giocare con un settimo giocatore.